Allora, noi abbiamo la scuola che riapre in Abruzzo a lunedì e ci siamo resi conto, parlando con l'RSU, con chi la scuola la vive, con chi lavora nel mondo della scuola, che le criticità che ci saranno non sono state sicuramente prese in attenzione da parte del mondo politico, sia nazionale che regionale. Il precariato, la carenza di organico, 2.700 alunni in meno, infrastrutture da sistemare, 2.000 persone in meno rispetto allo scorso anno impiegate per il Covid, e ora l'indicazione invece aprite le finestre, lo dice con un amaro sarcasmo il segretario generale FLCCGL Abruzzo e Molise, Giuseppe Lafratta, parlando della partenza a ostacoli della scuola in Abruzzo. Dopo aver speso risorse su banche a rotelle, dopo aver fatto degli interventi assolutamente insufficienti, ci si è dimenticato forse di intervenire sulle strutture, bisognava forse fare dei sistemi di areazione all'interno delle scuole, con i quali poi si sarebbe voluto affrontare non solo la pandemia, ma tutte altre problematiche che potrebbero arrivare in futuro. Quindi mancanza di organici, mancanza di interventi anche a livello strutturale. Noi abbiamo una situazione in Abruzzo in cui la percentuale dell'organico precario è quasi del 20%, anzi superiore al 20%, noi avremo l'anno prossimo 4.000 docenti precari, più di 1.000 lavoratoriata precari, e la precarietà non incide solo sulle condizioni personali di chi la vive, e quindi non può programmare il proprio futuro, ma incide sulla scuola perché manca la continuità didattica, quando poi il genitore dice ma cambiano sempre i docenti, ma è possibile che il mio figlio diversamente abile deve ogni anno cambiare gli insegnanti di sostegno? È dovuto al fatto che non si interviene strutturalmente, si può fare e si potrebbe fare con i tanti soldi, con le tante risorse che si stanno spendendo in mille rivoli. Noi pensiamo che il primo investimento da fare sia quello sul personale, sui lavoratori, quindi organici, tempo scuola e anche rinnovi contrattuali per una categoria che è la più bistrattata tra le varie categorie anche a livello europeo.